musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi non doveva esserci un video adesso ma è appena uscita e lo state vedendo alle mie spalle ragazzi una di quelle notizie è fresche 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 come l'acqua delle fresche frasche che ragazzi va a parlare direttamente del compleanno di Fortnite non è un leak ragazzi è un'immagine ufficiale che viene twittata un'oretta fa circa sulla pagina twitter di Epic Games e che parla chiaramente del Fortnite's First Birthday Celebration il primo compleanno di Fortnite e quindi loro ci dicono buon compleanno cari fan in poche parole loro ringraziano a partire dal 24 luglio noi saremo felici di celebrare con voi il primo compleanno di Fortnite e ragazzi con il primo compleanno di Fortnite verranno proposti dei regali quindi ragazzi è ufficiale e se è ufficiale 3 2 1 a San Catalaia guardali qua ragazzi i nuovi regali che Epic Games darà a noi giocatori in base a quanto riusciremo a completare delle sfide che verranno messe a nostra disposizione dal 24 sfida numero 1 fai mille danni ai tuoi avversari per avere un'emote originale del primo compleanno di Fortnite quindi voi lo vedete è la seconda riga in questo momento l'emote quella che alzi così con i cupcake sopra il numero 1 balla in diversi posti per avere scusami balla davanti a diverse torte di compleanno per ottenere uno spray ufficiale del compleanno ed esclusivo lo possiamo vedere ragazzi proprio qui è quello che ci verrà regalato ballando davanti a 10 torte di compleanno gioca 14 partite per sbloccare 5000 punti esperienza e al completamento di queste tre sfide otterremo ragazzi il backpack della festa di compleanno di Fortnite sfida principale quella là in alto come ci suggerisce l'immagine completa tutte e tre le sfide per ottenere un backpack esclusivo e saranno ragazzi veramente degli oggetti mega rari per i giocatori futuri di Fortnite oggetti che non verranno più proposti perché sono relativi ovviamente solo al nostro primo compleanno beh ragazzi io spero di avervi fatto un po' sorridere con questa nuova immagine che è appena stata twittata mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video se come me non state nella pelle per ricevere i regali un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra poco in live ciao 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 ciao